È incredibile come riescono a organizzare queste feste. Io la prima volta che sono venuto l'anno scorso sono rimasto di stucco, meravigliato proprio nel vedere tutto questo grande entusiasmo che riescono a trasmettere in queste serate. E devo dire che io ho avuto la fortuna di girare quasi tutti gli stadi e conoscere tutte le tifoserie di tutta Europa. Devo dire che pochissimi sono come questi tifosi dell'Adea, sono incredibili. Ti posso dire che forse uguali sono quelli del Borussia Dortmund, tanto entusiasmo che riescono a trasmettere non solo nella gara ma anche nelle manifestazioni come queste che avvengono in questo momento. E questa Atalanta che ancora si sta muovendo sul mercato, siamo soltanto ai primi passi, due pezzi sono già arrivati. Questo giovane rumeno Nica, non so se tu l'hai già visionato o lo conosci, Migliaccio invece è una vecchia conoscenza. Sì, Migliaccio vai sul sicuro. Invece questo è giusto fare questi investimenti su questi ragazzi giovani che possono anche risultare essere delle sorprese. La cosa più importante sicuramente è riconfermare il blocco dell'Atalanta che ha ottenuto degli ottimi risultati in questi ultimi anni. Bisogna trovare una certa stabilità nella categoria e penso che sia questo l'orientamento che ha la società e tutto l'ambiente.